Ben trovati in studio, apriamo questa seconda parte di Fnews con la politica. Nino Condorelli, assessore comunale di Pozzallo, aderirà al Partito Repubblicano Italiano. La sua adesione sarà ufficializzata nella sala conferenze stampi in programma per domani, giovedì 5 gennaio alle ore 10.30, presso lo spazio Cultura Menassenza a Pozzallo. Interverrà Gino Cago, segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano, che annuncerà la linea politica del partito rispetto alle prossime elezioni amministrative che riguardano il comune marinaro della provincia Iblea. Saranno presenti il sindaco di Pozzallo, Peppe Sulcenti, e il consigliere comunale, Salvatore Toscano. E continuiamo con la politica. Il presidente della provincia di Ragusa, Franca Antocci, è intervenuto per replicare i consiglieri del Partito Democratico a proposito della proroga di alcuni incarichi dirigenziali, ma cerchiamo di capire meglio i contorni della querella nel servizio. In relazione al comunicato del gruppo consigliare del Partito Democratico Barone, Nicosia e Padua sulla proroga degli incarichi dirigenziali a tre dirigenti, il presidente della provincia, Franca Antocci, è intervenuto per chiarire i contorni della questione. Il provvedimento, ha dichiarato il presidente, riguarda esclusivamente il termine di vigenza del contratto dei tre dirigenti incaricati e non fa altro che allinearsi ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'illegittimità di un sistema di spoil system che non tenga in conto le esigenze gestionali della pubblica amministrazione. Antocci ha affermato di essersi attenuto a tali principi al fine di garantire la tendenziale continuità della gestione amministrativa per non pregiudicare il buon funzionamento dei servizi istituzionali. In ogni caso è stata mantenuta ferma una delle clausole espressamente accettate dai dirigenti incaricati riguardante la possibilità del legale rappresentante dell'ente di risolvere in qualsiasi momento i contratti in essere, Antocci infine respinge la similitudine avanzata dai tre consiglieri del PD con l'operato del Presidente della Regione Siciliana perché sostiene Antocci mentre il Governatore nomina ex nuovo consulenti io non me ne avvalgo da tempo e mi sono limitato solo ad assicurare la copertura dei posti in organico procedendo contemporaneamente ad una riduzione del numero dei dirigenti. E ci spostiamo a Vittoria dove l'attenzione della politica sono puntate sul piano regolatore generale all'intervento del coordinatore cittadino di Futura Libertà nell'Odili hanno fatto seguito le dichiarazioni del primo cittadino Giuseppe Nicosia. A Vittoria riflettori puntati sul piano regolatore generale il segretario cittadino di Futura Libertà nell'Odili sollecita nuovi addempimenti da parte del Consiglio Comunale. A suo giudizio infatti la scadenza dei micoli di espropriazione ha consentito a dei privati di fare ricorso e di ottenere delle sentenze a proprio vantaggio che stravolgono le previsioni del PRG e fanno venire meno delle aree per servizi a verde pubblico. Nell'ultima seduta del Consiglio è stata approvata una delibera che prevedeva la ridestinazione urbanistica di alcune aree periferiche che anticipa la variante e fissa nuovi criteri. Di Eli teme che in questo modo non si atti una vera perificazione delle zone periferiche già deturpate dall'abusivismo degli anni passati. Sulla questione è intervenuto anche il primo cittadino Giuseppe Nicosia che ha dichiarato che la verante al PRG debba avere un iter privilegiato poiché costituisce un'esigenza importante della città. Per quanto riguarda, detto Nicosia, l'atto relativo alla redistribuzione di alcune aree urbanistiche ritengo che necessiti di ulteriori approfondimenti e lo dimostra il fatto che nonostante fosse all'ordine del giorno dell'ultima sessione consigliare non è stato trattato in quella sede. Prima di essere riportato in Consiglio Comunale dovrà essere confrontato con l'ufficio proponente ed in quella sede valuteremo se ritirarlo o meno. A Vittoria, l'Emmaia che gestisce le zone blu ha predisposto nuovi uffici dove poter pagare le multe già da oggi infatti sarà possibile per gli utenti recarsi in piazza Manin anche nelle ore pomeridiane. Nuovi sportelli a Vittoria per venire incontro alle esigenze dell'utenza per il pagamento delle zone blu. Da oggi è operativo anche di pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 e dal lunedì al venerdì l'ufficio di piazza Manin utilizzato dalla Fiera Emaia in virtù della convenzione con il Comune di Vittoria per la gestione delle zone blu per riscuotere le somme derivanti dalle cosiddette multine per la sosta non regolamentare negli stalli a pagamento. In virtù di un'oggettiva esigenza che abbiamo registrato nei diversi incontri con le categorie produttive e nel monitoraggio dell'attività quotidianamente effettuata attraverso le relazioni degli ausiliari ha spiegato il direttore di Fiera Emaia Giuseppe Sulsenti e considerata anche la richiesta bipartisan pervenuta in Consiglio Comunale abbiamo provveduto con urgenza ad attivare il servizio di pagamento nel distaccamento di piazza Manin anche al pomeriggio Nei prossimi giorni la direzione avvierà un mando di manifestazione di interesse rivolto ad associazioni o altri front office in grado di ospitare uno sportello Emaia in grado di accogliere il pagamento delle multine Lo scopo ha concluso Sulsenti di aprire almeno altri due sportelli al fine di coprire l'area cittadina e dare un servizio migliore all'utenza Ieri ci siamo occupati della circolare ministeriale dello sviluppo economico che a partire dal primo gennaio 2012 prevede la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e comuni turistici o città d'arte come per esempio Ragusa non sarà più possibile applicare limiti territoriali o temporali in materia di orari ma sentiamo cosa ne pensa la gente a proposito di questa decisione Negozi aperti ad ogni ora in tutti i giorni della settimana sembrava accadesse solo nel resto d'Europa invece anche Ragusa si sta adeguando Il Ministero dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi ha infatti emanato una circolare contenente nuove misure in materia di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali Non sarà dunque più possibile applicare comuni turistici o città d'arte limiti territoriali o temporali in materia di orari Ne consegue che Ragusa classificata come città d'arte i titolari degli esercizi commerciali in qualsiasi zona del territorio sia in centro che in periferia e in qualsiasi periodo dell'anno potranno decidere liberamente di tenere aperta l'attività quando vorranno La stessa circolare fissava inoltre al 1 gennaio 2012 il termine entro il quale le regioni erano tenute ad adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari Ne consegue che in mancanza di specifici provvedimenti regionali come al momento risulterebbe in Sicilia la norma sulla liberalizzazione degli orari deve comunque essere applicata e non può essere vanificata con interpretazioni diverse insomma liberalizzazione consentita ma cosa ne pensa la gente comune di questa decisione? Dicevo che con questa crisi ormai tutti vogliono aprire qualsiasi giorno e qualsiasi orario e noi giustamente quando li troviamo aperti ci andiamo sono d'accordo è bene a me piace sono d'accordissimo io penso che durante il pranzo non c'è nessuno perciò penso che di sera sarà meglio di sera è sempre una cosa bella perché la gente è affrontata il lavoro e qui è libero si fa la sua spesa penso che sia utile per chi ha lavoro e quindi dare la disponibilità un po' per tutti giustamente è un periodo di crisi veniamoci incontro il nostro pensiero sarà quello attuale cioè nel senso che sicuramente non aderiamo a nessuna a nessun'altra proroga di apertura in quanto già abbiamo un'apertura non indifferente nel senso che lavoriamo sempre dalla mattina alla sera quindi lavorare anche la notte non so se ne vale la pena dunque pareri contrastanti tra consumatori e commercianti in attesa di sapere nei prossimi giorni quale sarà il reale comportamento adottato da ciascuno esercizio commerciale e soprattutto come reagirà la gente si svolgerà il 6 gennaio a pedalino la prima edizione del presepe vivente itinerante all'evento che aveva inizio alle 15.30 vedrà la presenza in costume dei figuranti ma anche dei musici e dei magi che si sfileranno che sfileranno scusate per le vie del paese si esibiranno la banda musicale Scarlatti e i tamburi di Bocchiere a fine del percorso i magi porteranno i doni a Gesù Bambino e il tutto sarà arricchito dalla voce del tenore Marcello Pace che sarà accompagnato dal maestro Biaggio Garofalo la crisi si sente e si respira nonostante ciò c'è chi preferisce partire per il ponte dell'Epifania anche se quest'anno una buona fetta di italiani ha deciso di restare a casa a causa la crisi imperante il 2012 è iniziato da pochi giorni già la scura della crisi e delle manovre finanziarie entrate in vigore il primo gennaio scorso fanno sentire i primi effetti il primo ponte dell'anno quello dell'Epifania vedrà infatti una riduzione delle partenze di alto il 30% rispetto al 2010 e il 2011 complici sicuramente anche gli aumenti autostradali in alcune regioni hanno subito un incremento pari al 12,93% da una ricerca di mercato effettuata da Telefono Blu emerge che la crisi aggiunta gli aumenti alle tasse abbiano diminuito la voglia di viaggiare degli italiani nonostante ciò con il primo ponte di questo nuovo anno ormai alle porte con l'atteso arrivo dell'Epifania saranno 3 i milioni di italiani in partenza già da oggi e si aggiungono ai 3 milioni che si trovano ancora in vacanza da Natale o Capodanno secondo l'indagine di Telefono Blu coloro che partono per il ponte dell'Epifania una disponibilità media di 450 euro si recherà in montagna o all'estero il 28% di vacanzine andrà nelle seconde case soprattutto al mare un buon 10% città d'arte i vele rientri avranno inizio con domenica il 70% si muove in auto il 9% in aereo ristante fra treni e navi e prima di chiudere io vi ricordo che subito dopo l'edizione delle 15 delle 17 15 delle 20 e 30 del nostro Tg andrà in onda un nuovo appuntamento con 15 minuti con oggi ospite appunto padre Benemino Sacco parroco della chiesa Spirito Santo di Vittoria per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione è tutto vi ricordo che potete seguire i nostri Tg sul sito free tv online 1.it grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione